E siamo sempre qua, siamo sempre qua, siamo gli ultra, siamo gli ultra, in ogni stadio, ogni città Io canterò, io canterò, con la pioggia e il sol, con la pioggia e il sol, magica e te faccio gol E ce ne andiamo agli ottavi, non posso urlare perché oggi è giornata un po' del cazzo Non posso urlare ce ne andiamo agli ottavi, ce ne andiamo agli ottavi, ce ne andiamo al mondiale per club Incassati altri 20 milioni che di questi tempi nelle casse nostre sono oro Una grande prestazione, non focalizziamoci solo sul primo tempo Perché stasera l'Inter ha dimostrato un'ennesima prova di forza Devo fare un video per me perché poi ho anche poca memoria sul telefono Comunque ragazzi, ce ne andiamo agli ottavi e andiamo a mondiale per club, per blasone, per fama, per storia, per vittorie E per una squadra quest'anno granitica Hai affrontato sempre una squadra come Sarisburgo molto fisica che pressa alto e ti ha messo un attimo in difficoltà nel primo tempo Ma c'è da dire che l'unica occasione vera e importante nel primo tempo ce l'abbiamo avuta noi Con frattesi su quel lancio tagliato in mezzo dove Sanchez secondo me ha peccato un attimo di altruismo E non tirare in porta e girarsi L'ha data dietro a rimorchio per frattesi che l'ha sparata alta e si è mangiato un po' un gol Quindi diciamo che l'occasione vera ce l'ha avuta l'Inter nel primo tempo Nonostante un grande pressing di Sarisburgo Bissek partitone, un grandissimo primo tempo l'esordio in Champions da veterano Senza paura, si permette di tirare in porta tranquillamente Interventi puliti Il giallo secondo me è anche generoso perché lì comunque arriva dopo che ha tirato Entra anche a gambe aperte Un po' esforbiciato Il giallo mi sembrava anche un po' generoso Detto questo veramente è una grande prestazione Aspettiamo l'avversario, sappiamo quando far male, sappiamo quando colpire Ma soprattutto oggi un Darmiana spaventoso Un Matteo Darmiana veramente stoico come sempre Perché da centrale è forte, ma cazzo Ma da esterno, ma è un'altra roba Cioè ma voi pensate il Darmiana di stasera con la Kimi di ieri Cioè veramente tre o quattro categorie sopra Matteo e Darmiana Veramente che cazzo di giocatore, che partita che ha fatto anche oggi Centro campo oggi un po' molle ma Davidino Frattesi mi è piaciuto Più nel secondo tempo che nel primo Nel primo un po' in bambola C'è la Norlo oggi male Il giallo poteva evitarlo Insomma ha sbagliato un sacco di palloni in impostazione Tra i tre quello diciamo più salvabile è stato Mkhitaryan Sempre con le sue solite sgroppate Veramente da ventenne nonostante abbia 34 anni Darmiana devastante, si è mangiato l'erba Una partita veramente come sempre sontuosa Verso gli ultimi minuti per prendersi il fallo stava veramente imbappeggiando Perché stava giocando come imbappé Sembrava veramente imbappé e come rapporto alla squadra Come sostegno alla squadra Come supporto anche quando scende nelle trame difensive Secondo me attualmente è il 9 più forte d'Europa Entra Lautaro come sempre segna e prende la traversa appena entrato Decisivo sempre il capitano Poi anche lì voglio dire Si è mangiato un gol anche alla fine Poteva avvicinarsi Ha fatto uno stop veramente che vale il prezzo del biglietto Poi dopo ha sparato fuori col sinistro Un Inter che ha aspettato il momento Dove Salisburgo abbassasse un attimo il pressing Per poi andarla a colpire E a metterglielo Interkül Comunque un Salisburgo che Ce l'ha fatto sudare un pochino nel primo tempo Però alla fine ripeto l'occasione vera ce l'ha avuta l'Inter Del resto una difesa Bissek il migliore dei tre centrali Oggi Devraia entra E come sempre quest'anno In maniera eccellente Devraia una sicurezza ritrovata Ok? In Milano siamo noi I primi in classifica In campionato primi Nel girone di Champions È vero che è importante vincerle tutte Arrivare primi Perché comunque la Sociedad Le sta vincendo tutte Quindi in questo momento Non c'è una big Negli altri gironi che sta floppando Quindi le più forti sono tutte prime Quindi bisogna arrivare primi Però intanto Godo Me ne vado al Mondiale per club E l'ennesimo Il terzo anno di fila Che l'Inter si qualifica gli ottavi di Champions Con Simone Inzaghi In panchina Con Simone Inzaghi In panchina Oggi il mister benissimo nei cambi Benissimo nei cambi Secondo me Bissek Poteva un po' Aspettare a toglierlo Nel resto perfetto Carlos Augusto In fase di impostazione Non come Di Marco Sicuramente però Grandissima partita Di livello Di sacrificio Come sempre Sommer Vabbè poco impegnato Alla fine di Sb Di occasioni vere Davanti alla porta Non è che ne ha avute E niente Quindi vittoria è meritata C'era anche un mezzo di rigore Secondo me su Turama Anche lì Vabbè Lasciamo stare Insabbiato Comunque Amala sempre Poi domani faremo Un video più Dettagliato Quando avrò tempo Che domani è una bella Un'eserata anche impegnativa Comunque 5 minuti di video Sono qua Mi scoppia tutto il telefono E si sta pure scaricando Amala sempre Sempre forza inter E sempre forza inter Ci vediamo domani col post partita Video giorno dopo E andiamo 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 Oggi un inter con 6 Rinforzi estivi In campo E andiamo Cazzo Forza ragazzi Forza inter Amala sempre Un bacione a tutti Ci vediamo al prossimo video Bella E andiamo